eccoci qui ancora con il video 11 e allora abbiamo creato la flangia con tutta la sua foratura quindi va salvata con flangia colonna flangia colonna ok a questo punto a questo punto se non abbiamo dimenticato nulla se non che al limite torniamo dentro torniamo dentro e gli mettiamo come materiale diciamo che ceo dolce ok adesso andiamo a crearci che cosa dobbiamo creare la piatta banda così la chiameremo piatta banda ok e questa qui a 600 da qui lo schema vedete prende lo spigolo della della flangia ok va a finire in uno spigolo a 600 qui in questa prossimità grosso modo in questa zona c'è dentro una nervatura doppia la vediamo qui ok quindi noi adesso andiamo a fare queste e poi andiamo a fare queste queste nervature e non dobbiamo dimenticarci che qui dentro che vedete smussata c'è in coincidenza dell'anima della ipe c'è una una diciamo una nervatura parallela a che avrà uno spessore decidiamo noi visto che questa qui da 5 qualcosa faremo uno spessore 6 più o meno per costituire qui andiamo come come se qui andessimo a lassimo ad allargare questa zona no cosa serve questa nervatura questa nervatura serve a creare eventualmente qui c'è un come un puntone qui punta è vero che lavora tutta l'anima ma linea teorica potrebbe abbozzarsi qui imbozzarsi allora noi mettendo qui questa doppia nervatura andiamo a rigidire questo nodo questo poteva essere anche verticale ma diventa poi un casino per le nervature lo teniamo ortogonale ok quindi andiamo a fare questo lavoro quindi ritorniamo nella nostra nel nostro assieme trave stiamo lavorando a diversità della colonna adesso come all'interno degli assiemi creando creandoci la situazione con il crea le nuove e nuove parti quindi fatta questa andiamo creare quindi una nuova parte la chiameremo piatta banda piatta banda ok ok clicchiamo diamolo ok piatta banda facciamo uno schizzo 2d dove lo facciamo partiamo in un piano lo facciamo partendo dal piano delle origini su questo piano qui e che cosa facciamo bene questo è molto semplice proiettiamo la geometria di questo di questo un spigolo qui spigolo la geometria di questo e abbiamo tutto perché ora noi andiamo a crearci una una linea poi qui un'altra poi qui un'altra e qui andiamo a chiudere come devono essere ma questa non si è creata creiamo noi abbiamo detto che uno spessore di 10 innanzitutto sono parallele queste due si lo sono sono ortogonali queste perpendicolari questa con questa si lo è questa con questa si lo è allora andiamo a dargli la quota di questa qui dire che è di 10 ok e andiamo a dirgli che a questo punto a questo punto abbiamo una misura di 600 ok fatto allora quanto la facciamo larga concludi schizzo allora le possibilità sono due farla far larga come come la ip e come l'ala della ip è da 91 tremo quell'altra è di 140 potremmo fare una via di mezzo in modo che non sia brutta da vedere possiamo farla di 120 in realtà andrebbe bene siccome stiamo ricostituendo e rinforzando il discorso della ip e basterebbe il 90 ok però noi facciamo la 120 quindi come se ci fosse un 15 mm per parte di in modo che non stia male da vedersi qui allora andiamo fare una estrusione di quest'area metà e metà abbiamo detto di 120 ok abbiamo fatto anche qui ci va dentro la saldatura è attenzione torna anzi no prima di tornare ritorniamo nella piatta banda gli diciamo che il materiale è acero dolce ok allora andrebbe fatta quindi la saldatura come si fa andremo fare dovremmo fare la saldatura qui dentro tra questi due spigoli qui allora vi ricordo l'abbiamo fatto già prima mi raccomando voi fate tutto io faccio solamente un pezzettino giusto per non dimenticarci quindi andiamo negli ambienti anzi siamo già scusate siamo andiamo in la modello andiamo in o signor io in questo momento sono dentro una parte quindi adesso devo andare nell'assieme e l'assieme cosa trovo trovo la saldatura siamo già un'assieme saldata gli vado dire me la fai d'angolo d'angolo 5 qui abbiamo un 10 di cui è un 10 di la potremmo già dire di farla magari da 8 io ho scelto questa modalità qui altrimenti 8 poteva essere la sezione ok tengo questa mettiamo un offset sempre di qui in questo caso mettiamo 10 di 10 ripeto le specifiche le dovrebbe dare l'ingegnere prendo questa questo piano il secondo piano è questo la applica ok poi dovrei farla anche su questo lato di qui e digli angolo offset qui facciamo 5 qui 5 in questa modalità poi piano 1 è questo piano 2 è quest'altro applica ok attenzione brutto qui cosa facciamo qui la spigoliamo sporge quasi di 15 facciamo una una spigolata ristroniamo dentro nella nella nostra con doppio clic io rientro nella piatta banda vado a prendere smusso gli dico fa meno smusso da 15 dove qui e qui applica sono finezze che alla fine fine torna sono finezze che alla fine pagano l'occhio e poi tutti quegli spigolini lì sono diventano tutte cose molto pericolose meccanica soprattutto gli spigoli sono da bandiere togliere dove si può allora detto questo abbiamo fatto questa situazione andiamo ad aggiungere adesso la l'anima qui internamente quindi cosa facciamo questo piano qui togliamo la visibilità se non ci capiamo più nulla qui dentro vuoto ora andiamo a crearci quindi crea nervatura diciamo in anima ok chiamiamola così clicchiamo qui diciamo ok e poi diciamo di avviare uno schizzo 2d sempre su questo questo piano questo piano ok quindi siamo qui facciamo adesso proiettiamo la geometria proiettiamo la geometria di uno due tre conviene questa geometria di considerarla come delle linee di costruzione ok allora noi abbiamo facciamo un segmento qui che vada qui a qui invio invio ancora un segmento che vada qui a qui un segmento che vada qui a qui invio taglio 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 ora vado ad unirli vado ad unirli uno dice ma io potevo fare anche così perfetto se orco diavolo indistratto la prendo e la allungo fino a qui senza cancellarla se trovate un'altra strada ma va benissimo questo è il mio scopo buon insegnante deve dare gli strumenti all'allievo in modo tale che l'allievo prima o poi superi il maestro se no vuol dire che l'allievo non è un bravo allievo e il maestro non era poi così un bravo maestro allora vado a quotare adesso per esempio da qui a qui gli dico però allineata gli dico fammi lì un taglio di 25 ok ma perché faccio questa cosa questa qui fammi sempre come questa qui ok questa qui fammela come questa e questa qui allineata però allineata fammela come questa questa qui invece da qui a qui il discorso che è successo ah qui devo proiettare ho proiettato devo proiettare questa qui avete visto devo arrivare fin qui quindi proietta geometria anche di questa e digli che questa qui è linea di costruzione ok ora li posso portare da qui a qui allineata me la fai questa misura è come come questa qui ok diviso per due per due il doppio perché perché sennò diventerà troppo piccolo il passaggio perché vengono fatte queste cose ve l'ho già spiegato una volta per motivi sono due per lo più due vediamo vediamo mentre io vado qui a fare allineato se ci arrivate a capirlo pensateci allora allineato ok mettiamo qui come questa ok quindi concludo schizzo abbiamo detto che questa nostra estrusione qui è di sei però metà e metà la mettiamo in anima ok il materiale semplice o dolce torna quindi perché di questo motivo ci sarete sicuramente arrivati comunque ve lo dico perché uno se vai a zincare qui dentro si deposita lo zinco liquido e quando lo togli dal bagno è un casino farlo scolare fai tribulare la gente lì che si incazzano due quando io vado a fare qui io ho fatto saldatura esterna ma qui c'è anche una saldatura interna io non l'ho fatta voi la farete ora poi salderete anche tutta l'anima ok magari non continua ma con dei tratti almeno sempre questo sempre nozioni che vi deve dare in questo caso l'anima non lavora tantissimo le saldature non lavoreranno tantissimo quindi non fate una saldatura lunga fino a lì che dura un lira di dio dovete fare a tratti uno due tre quattro cinque sei dieci imbastite e la tiene lì lavora comunque vedete anche qui dentro qui è difficile fare dargli la saldatura però questi qui allora servono abbiamo detto sia per lo scolo dell'eventuale zincatura o per evitare che la saldatura vada in conflitto nel momento in cui vai a posizionare la nervatura per cui a quel punto cosa fai tu tagli intanto questo pezzettino che perdi non è un dal punto di vista della statica o comunque sia della dinamica comunque degli sforzi nell'economia degli sforzi non gli hai portato via nulla ok detto questo ci manca adesso altri due pezzettini che sono uno lo facciamo subito l'altro faremo nel prossimo video allora devo fare la nervatura qui ok allora devo fare la nervatura qui cosa faccio questa qui è stata fatta il piano di lavoro gli togliamo la visibilità perché altrimenti non si capisce più niente andiamo a fare crea la nervatura nervatura ipe chiamiamo così nervatura ipe è quella ortogonale la più normale che ci sia ok dico qui dico ok dove vado a farla allora io devo farla sul piano qui dell'anima sul semispessore dell'anima quindi vado a fare schizzo 2D su questo piano ok quindi non sono attenzione non sono nel piano diciamo quello d'origine centrale sono spostato sull'anima sto lavorando proprio sull'anima come Gianna Nannini che cazzate che ho detto va bene allora andiamo a fare la proiezione delle geometrie che ci servono qui cosa abbiamo attenzione non confondetevi che questo qui è il raccordo stiamo all'interno di qui e anche di qui abbiamo questo raccordo e questa qui è l'altra posizione poi e poi mettiamo anche magari questo punto proiettiamo questo punto vedete punto di contatto perché? perché ora noi ci faremo una linea più o meno che va da qui a qui diciamo che questa è perpendicolare questa è perpendicolare a questa ok qui tagliamo ok perché l'ho fatto dopo ve lo spiego e poi facciamo una linea un segmento una linea troppo generico un segmento ha un inizio e una fine ok una retta va all'infinito da entrambi i lati una semiretta ha una origine e poi va all'infinito quindi cerchiamo di essere il più precisi possibile queste due sono parallele ok la era perpendicolare l'anima abbiamo detto che la facciamo potevamo farla da sei facciamola da otto ormai le ho fatte da otto anche le altre sono un po' grosse ok a questo punto vado ad unire questo con questo questo con questo a che distanza la vado a mettere? allora diamogli una distanza che deve avere grosso modo che gli diciamo che eh da questo punto vediamo se possiamo dirgliela così no possiamo dargliela così gliela daremo sì gliela daremo da questo spigolo interno a qui diamogli una misura all'incirca eh di 610 questa non è una misura importantissima l'importante è farla arrivare all'incirca in questo nodo ok potremmo farla anche in là anzi facciamo così facciamola di 620 620 quindi facciamo coincidere un po' di più gli spigoli basta l'abbiamo fatta concludiamo lo schizzo andiamo ad estrudere andiamo a fare l'estrusione di questa di quanto va estrusa attenzione l'anima succede questo si sta sempre leggermente un po' non a filo ma si sta leggermente un po' più indietro può essere 5 può essere un po' di più ok nel nostro caso la misura è di 40 dalla dallo semispessore dell'anima a qui è di 40 per cui noi andiamo a fare un'estrusione di 40 ok va bene? no non va bene perché cosa dobbiamo fare? dobbiamo andare a spigolare la stesso discorso dell'altra anima quindi andiamo a fare smusso ok lo smusso qui lo facciamo da lì ha un raggio di 9 noi basta che facciamo lo smusso da 15 per esempio lo smusso da 15 qui lo smusso da 15 di qui applica spero abbiate capito ok ok anche lui la ceo dolce abbiamo quasi finito il video e lasciamo allora abbiamo detto ceo dolce ok a questo punto cosa dobbiamo fare? dobbiamo andare a replicare dalla parte opposta quindi vado a dirgli di farmi uno specchio uno specchio di questa attenzione dove siamo qui togliamo questo piano qui la visibilità perché se no ci ingrippiamo poi mettiamo anche una vista che mi fa vedere i spigoli ombreggiati ok a questo punto la vedo io devo farla dall'altra parte che non c'è ok per cui devo dirgli ok fammi uno specchio di questo componente ok piano di riflessione mi vai a prendere questo piano di riflessione che passa a metà e gli dico successivo ervatura ipe ok fatta ce l'ho allora vi rimando alla flangia di colmo nel prossimo video sempre cerco di essere più breve del solito ciao